Sottibala le valutazioni sono tutte premature, penso che il ragazzo ha fatto due allenamenti o no e oggi ha giocato mezz'ora, quindi è chiaro che non può essere al top della condizione fisica e questo incide anche nella sensazione che può darmi affinto sempre avanti. Io penso che lui abbia tutte le caratteristiche e il numero di gol per poter fare anche quel ruolo, quando un giocatore è bravo e tecnicamente di solito riesce a fare tanti ruoli. In questo momento la Rosa della Juventus deve fare sei tagli per la lista Champions, è una situazione difficile, imbarazzante perché rischia di rimanere fuori dalla lista Champions, è un giocatore di grandissimo livello. Sottibala le valutazioni di